Sta per iniziare lo spettacolo Disney Illumination e la nostra Ale ci aiuterà a tradurre dal francese all'italiano le storie narrate. Benvenuti mesdames e messieurs, ce soir on va a Disneyland Paris pour regarder le spettacolo Disney Illumination. C'est la celebrazione des 30 ans de Disneyland Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 In pochi minuti il parco inizierà ad aglietarvi con il suo spettacolo di fuochi d'artificio per la Disney Illumination. E partiamo con la bella e la bestia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 E ora vediamo il viaggio dell'ombra di Peter Pan. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501